Quando hai la geniale idea di andare in moto a gennaio, i primi di gennaio, con un freddo pazzesco e poi devi tornare a casa mezzo raffreddato e registrare un video, beh, è esattamente quello che è appena successo ma dovevo registrare anche un video in moto perché, beh, se non lo sapete, sì, faccio anche dei video in moto ma, insomma, cercate voi, io non vi dirò come trovarmi, perché? Perché? Perché qui stiamo per parlare veramente di una delle novità più importanti, forse, dei rumor relativi ad iPhone del 2019 vado a mettere il microfono anche, mi cambio un attimo e poi ne parliamo dopo la sigla Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi parleremo quindi dell'iPhone 2019 perché sono arrivati non solo i primi rumor concreti su quelle che potrebbero essere le prime novità del nuovo smartphone Apple ma anche i primi rendering ufficiali, quindi le prime immagini in alcuni casi parliamo di concept, quindi di idee, di come è stato pensato il telefono in altri casi parliamo di veri e propri rendering, quindi di disegni, di idee sulla base però di rumor quindi i secondi sono leggermente più affidabili dei primi ma prima di parlare dell'iPhone ci sono anche delle altre novità di cui vorrei parlarvi prima di arrivare al succo del video quindi partiamo subito con i primi rumor che non riguardano l'iPhone infatti la prima cosa di cui vorrei parlarvi è una novità per quanto riguarda gli iPhone XS no, non ci sono nuovi problemi per fortuna, non ci sono nuovi aggiornamenti in vista in realtà uno sì ma ne parliamo dopo ma la cosa di cui vi voglio parlare è la presunta presenza già individuata su alcune parti del sito Apple di una Smart Battery Case per iPhone XS e non credo per il XS Max, quindi soltanto per il dispositivo più piccolo probabilmente vi ricorderete la Smart Battery Case ne abbiamo già parlato in un precedente video ma soprattutto la conosciamo dai tempi di iPhone 6S beh è stata nuovamente individuata all'interno delle pagine del sito Apple quindi appare ormai evidente che Apple ci stia veramente lavorando che sia ormai sul punto di annunciare questo prodotto che altro non è che una cover una cover che integra all'interno, nella parte posteriore una batteria che ricarica l'iPhone in continuazione quindi dà precedenza all'autonomia della batteria esterna che è la prima a scaricarsi e poi va praticamente a toccare quella dell'iPhone l'iPhone fino a quando c'è la batteria esterna invece non si scarica mai beh la Battery Case appunto potrebbe tornare anche per iPhone XS per dare un boost di batteria in più anche a chi ha scelto il modello più piccolo dei nuovi iPhone top di gamma dello scorso anno ormai comunque sì, gli ultimi attualmente in circolazione prima però di arrivare a parlare degli Icon perché ne parleremo praticamente subito dopo questa notizia è una notizia importante anche questa che meritava assolutamente il suo spazio perché sappiamo che a giugno Apple terrà la World Wide Developer Conference probabilmente a San José insomma in qualche posto sperduto della California non poi così sperduto in realtà se ci va Apple però praticamente stiamo già per avvicinarci al momento in cui iOS 12 o meglio iOS 13 beta verrà presentato in quel momento poi verrà anche rilasciato il primo software, la prima beta per gli sviluppatori e tutto questo avverrà a giugno sia la presentazione che il lancio della prima beta poi il lancio per tutti avverrà come ogni anno a settembre quindi siamo in quella fase in cui già all'interno degli ambienti di cupertino iOS 13 è assolutamente in fase avanzata di sviluppo considerate che mancano pochi mesi al momento in cui il mondo intero installerà questo software quindi per ora è chiaro solo Apple lo sta testando ma lo sta testando chiaramente come sempre accade facendosi un po' beccare infatti dagli analytics di alcuni siti internet sono già emersi i primi dispositivi che utilizzano iOS 13 questo vuol dire che quando un telefono si collega ad una pagina internet, a un blog come anche quando vi collegate sul nostro sito internet tutti i gestori dei siti hanno modo di vedere il browser e il software su cui è avvenuta quella sessione, quella connessione beh, su alcuni siti americani visitati da dipendenti Apple qualcuno ha già individuato appunto dei dispositivi degli iPhone, degli iPad che stanno eseguendo già oggi una versione non ufficiale del software quindi iOS 13 un iOS 13 che probabilmente ne abbiamo già parlato tanto lo saprete porterà con sé delle novità interessanti dal punto di vista grafico che erano addirittura previste per iOS 12 poi con iOS 12 Apple ha scelto di concentrarsi sul miglioramento delle funzioni già esistenti su poche novità funzionali ma soprattutto sui miglioramenti legati alla prestazione del dispositivo e all'autonomia fatte queste cose con iOS 12 ci si torna a parlare quindi di nuova grafica con iOS 13 che potrebbe interessare tutta la home screen forse non solo nuove icone ma proprio una nuova home screen e poi beh, belle novità che seguiranno insieme alla grafica quindi dopo iOS 7 praticamente dopo 7 anni 6 anni siamo sul punto di vedere una nuova grafica quindi è chiaro che per Apple le grafiche del suo sistema operativo valgono 6-7 anni poi diventano vecchie e bisogna aggiornarle devo dire iOS 7 la grafica di iOS 7 la grafica flat per me è invecchiata molto meno oggi rispetto a come era invecchiata quella di iOS 1 diciamo di iOS 6 fino ai tempi di iOS 7 in cui fu ringiovanita però se ci dovesse essere un cambiamento grafico sicuramente farebbe piacere anche a me come a tantissimi di voi ma arriviamo a parlare degli iPhone del 2019 per il momento vi dirò la verità non si sa bene quanti telefoni usciranno il prossimo anno anzi quest'anno a settembre sicuramente ci saranno due nuovi top di gamma che in base ai rumor vengono denominati iPhone X2 quindi iPhone X2 e potrebbero essere chiaramente disponibili sia nei modelli base quindi da 5.8 pollici sia nei modelli max o plus quindi quelli più grandi quelli con le dimensioni attuali dei dispositivi più grandi quindi dell'iPhone XS Max questi due device sicuramente monteranno un nuovo processore ci saranno miglioramenti forse anche per l'autonomia qualcosina per lo schermo ma diciamo che la novità più interessante almeno sui modelli più grandi perché io personalmente ho qualche dubbio relativamente ai modelli più piccoli potrebbe essere una tripla fotocamera però ne parleremo meglio dopo una novità che invece interesserà tutti assolutamente tutti i dispositivi che usciranno l'anno prossimo magari anche una nuova versione dell'iPhone XR sarà la rimozione dell'ultima porta che abbiamo attualmente sugli iPhone dopo aver rimosso il jack dopo aver rimosso basta c'era solo il jack in realtà beh è il turno di rimuovere l'ultima porta rimasta quindi la porta Lightning ebbene si Apple la toglierà completamente davanti ma per far spazio all'USB-C esattamente come abbiamo visto su iPad Pro potrebbe essere questa la novità forse non dico più importante ma comunque importante per gli iPhone del prossimo anno e quindi beh sarà una liberazione da tutti i cavi e cavetti e accessori in pratica in un mondo ideale si andrà in giro soltanto con un cavetto USB-C per caricare l'iPhone per caricare lo smartphone Android per caricare magari una fotocamera ad esempio la GoPro è già con l'USB-C quindi è prontissima per caricare un drone per caricare qualsiasi cosa ci vorrà un USB-C e questa secondo me è una grossa grossa comodità poi i dispositivi che supportano la ricarica wireless avranno sempre questa possibilità come anche l'iPhone che uscirà il prossimo anno potrebbe però non essere solo questa la novità del prossimo iPhone perché infatti una novità la potremmo trovare sulla parte frontale infatti nonostante questo rumor secondo me non sia pienamente nelle corde di Apple che di solito quando sceglie una strada non torna indietro si va a suggerire che Apple potrebbe effettivamente reintrodurre il Touch ID sull'iPhone X 2 e beh avrete già capito che fine farà quel Touch ID se sarà sulla parte anteriore non potrà non essere integrato sotto lo schermo anche perché spazio sul device non ce n'è e quindi si Apple potrebbe fare un po' quello che hanno fatto OnePlus quello che ha fatto Vivo quello che ha fatto Huawei quello che si dice potrebbe fare Samsung ma arriverà forse con un annetto anzi con un annetto preciso di ritardo rispetto al Mate 20 Pro di Huawei ma potrebbe essere una soluzione in più per sbloccare il dispositivo in quelle situazioni in cui effettivamente il Face ID non riesce a sbloccare il device ad esempio immagino appunto quando si va in moto con il casco il Face ID è completamente inutile beh sì in moto magari hai anche il guanto quindi pure il Face ID è inutile però ecco se si va senza guanti e non vi consiglio di andare senza guanti può essere un'opzione in più ad ogni modo staremo a vedere quello che succederà secondo me l'USB-C è praticamente una novità confermata sul Touch ID sotto lo schermo ho qualche dubbio credo che ci sarà magari un miglioramento del Face ID più che altro però ecco c'è chi sta suggerendo questo sono fonti sempre autorevoli quindi magari a sbagliarmi sarò io e infine l'ultima novità che potrebbe esserci sull'iPhone X 2 è un notch più piccolo la tacca infatti potrebbe essere leggermente rimpicciolita rispetto alla dimensione attuale che è una delle più grandi in circolazione diciamo che forse solo appunto il Mate 20 Pro ha questa dimensione di tacca c'è da dire però al tempo stesso che solo l'iPhone X l'iPhone XS l'iPhone XR e il Mate 20 Pro ad oggi hanno un riconoscimento del volto 3D c'è qualche altro dispositivo come il Mi 8 Pro ma infatti hanno tacche molto grosse tutti quei dispositivi come mi viene da pensare il P20 Pro anche il Galaxy S9 banalmente il OnePlus 6 il OnePlus 8T che hanno un notch più piccolo ce l'hanno perché non hanno una serie di sensori che invece consentono il riconoscimento preciso e sicuro che consente l'iPhone X o comunque i dispositivi simili beh Apple potrebbe fare una piccola modifica che le garantirebbe già un grosso vantaggio in termini di riduzione del notch perché potrebbero andare a spostare l'altoparlante che nel notch attuale è proprio in mezzo quindi occupa un bel po' di spazio dell'attacca lo potrebbero riposizionare nella parte superiore della cornice quella parte sottilissima frontale superiore un po' come ha fatto anche in questo caso OnePlus e questo consentirebbe di ridurre le dimensioni del notch un po' come Venia Gaskin ci mostra in questo concept molto affidabile secondo me in cui vediamo più o meno come potrebbero riallocare i sensori lo speaker per far spazio a uno schermo ancora più grande e ancora più bello da guardare con un notch più piccolo bene immagino che adesso vi siate presi tutti questi rumor in testa e nella vostra mente si sia creata un'immagine di questo iPhone di come potrebbe essere anche se non abbiamo parlato ancora dell'ultimo dettaglio cioè della tripla fotocamera ebbene sì non ho ancora parlato di questo dettaglio perché dai rumor emerge esattamente quella che sarà la disposizione la forma di questa tripla fotocamera che sarà un po' diversa rispetto a quella che ci si potrebbe aspettare magari semplicemente aggiungendo una lente qui sotto no Apple potrebbe non fare questo potrebbe invece ispirarsi a un dispositivo Android che è questo qui è sempre lui è il Mate 20 Pro infatti la forma della tripla fotocamera del nuovo iPhone potrebbe essere esattamente questa quindi un quadratone in cui troveremo le tre fotocamere è il LED flash una soluzione a cui devo dire mi sono abituato a me dispiace poco questa forma anche perché questa fotocamera abbastanza poco sporgente molto meno sporgente di quella dell'iPhone certamente è un bel quadratone quindi per carità è imponente ma Apple potrebbe metterlo secondo me in una posizione un po' più bruttina rispetto a quella di Mate 20 Pro cioè esattamente qui nell'angolo insomma questione di dettagli poi alla fine dipenderà più che altro da come scatterà questa fotocamera e speriamo soprattutto che la terza ottica sia un'ottica super grandangolare come quella di Mate 20 Pro e non qualche fesseria come purtroppo si dice legata alla realtà aumentata che onestamente insomma Apple dovrebbe anche un po' abbandonare questo concetto perché non ho mai visto nessuno sperimentare la realtà aumentata in un modo utile proficuo e quindi anche basta grazie bene quindi adesso abbiamo un po' tutti gli elementi per immaginare questo iPhone ma perché limitarci a immaginarlo quando sempre il buon Benia Geskin ha realizzato un bellissimo concept basato sui rendering sulle informazioni più affidabili che è questo qui ecco a voi signori quello che potrebbe essere l'iPhone del 2019 in tutto il suo splendore beh questo me lo dovrete dire voi a me sulla parte frontale devo dire mi piace mi piace il notch più piccolo mi piace il fatto che sia comunque iconico si riconosce che è un iPhone ma anche comunque una novità importante quindi una riduzione della parte inattiva frontale quella rappresentata proprio dal notch la parte posteriore devo dirvi la verità mi lascia un po' perplesso non solo per il triangolo degli illuminati che potete benissimo tracciare come vi ho fatto vedere su Instagram per andare a divertirvi con gli amici però insomma è veramente un triangolo degli illuminati quello quindi mmm confermati boh ma soprattutto ecco questa fotocamera se sul Mate 20 Pro centrata mi sta bene nell'angolo qui dell'iPhone mi sta un po' meno bene mi sembra un po' troppo importante e poi chissà se questa tripla fotocamera appunto arriverà su tutti i device o soltanto sui modelli più grandi perché avere questa tripla fotocamera su questo beh è ingombrante ma ci può stare ma sul modello più piccolino veramente diventa una cosa molto difficile da guardare ma in ogni caso ragazzi siamo arrivati alla fine di questo succulentissimo video quindi io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto siete dei grandi se il video vi è piaciuto se volete far conoscere anche ai vostri amici alle vostre ragazze se magari si interessano di tecnologia è una rarità lo so però può darsi ricordatevi di condividere questo video tramite il pulsantino dedicato qui sotto di lasciare un like di commentare facendomi sapere se vi piace come sarà il prossimo iPhone e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al nostro canale se volete più video come questo dedicati ai prossimi iPhone di Apple noi ci risentiamo ad un prossimo video ciao a tutti da Andrea Cermone per iPhoneItalia.com grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.